Le piante sono degli organismi straordinariamente diversi rispetto agli animali, rappresentano l'86% di tutto quello che è vivo, ma non hanno un cervello. Eppure, nonostante questo, sono in grado di risolvere problemi, di comunicare, di avere una vita sociale, così come facciamo tutti noi. Io mi chiamo Stefano Mancuso e dirigo il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale presso l'Università di Firenze. Inizierei dalla definizione di intelligenza. L'intelligenza è qualcosa di difficilmente definibile, nel senso che tendiamo quasi sempre ad avere una definizione di intelligenza che sia sufficiente e necessaria per descrivere le nostre capacità, le capacità umane. Se noi guardiamo agli studi sull'intelligenza, troviamo un numero talmente enorme di definizioni che è una delle definizioni che a me sta più simpatica. È quella che dice che esistono tante definizioni di intelligenza. Quanti sono i ricercatori a cui è chiesto di definirla? In realtà tutto questo nasce da una ossessione umana di definire l'intelligenza come una caratteristica che è esclusivamente nostra. Nel corso del tempo la definizione di intelligenza si è sempre di più ristretta. Io ricordo quando, ad esempio, si parlava di intelligenza per quegli esseri viventi che erano in grado di utilizzare degli strumenti. Questo perché doveva essere qualche cosa che si limitava a noi. Poi si scoprì che c'è un enorme numero di animali che utilizza strumenti e quindi questa definizione di intelligenza è caduta. Questa idea dell'intelligenza soltanto umana non mi ha mai convinto. Io sono un fautore invece di una definizione dell'intelligenza che sia la più inclusiva e ampia possibile. In questo senso direi che la capacità di risolvere problemi è la definizione di intelligenza che per quanto mi riguarda trovo più condivisibile. Ora, quando noi guardiamo al problema dell'intelligenza ci accorgiamo di una cosa che di fatto per la scienza l'intelligenza è il frutto di un organo, il cervello. Un po' come i reni producono urina, il cervello produce pensiero. Questa è la nostra idea, sembra paradossale, sembra estremamente semplificata, ma è la realtà. La più grossa barriera all'inclusione nel gruppo degli esseri intelligenti delle piante, ad esempio, è il fatto che le piante sono prive di cervello. Questo le rende, senza alcun'altra necessità di nessun'altra prova, fuori dal novero degli esseri intelligenti. Guardando i numeri io vedo in questa prima barriera un assurdo scientifico, un assurdo evoluzionistico. Perché? Se noi prendessimo tutti gli animali, non noi uomini, noi uomini, tutti i mammiferi, i rettili, gli anfibi, gli insetti, gli uccelli, i pesci, eccetera, e li mettessimo su una bilancia, ci accorgeremmo che loro rappresentano soltanto lo 0,3% in peso dell'intera vita del pianeta. Le piante, d'altra parte, rappresentano l'86%, poi c'è 1,2% i funghi e il resto microrganismi. Giusto per capirci, i funghi sono quattro volte superiori in massa a tutti gli animali. Bene, ora partiamo dal concetto che l'intelligenza è una prerogativa degli esseri dotati di cervello. Questo vorrebbe dire, in altri termini, che il 99,7% della vita è stupida. È in realtà fatto di macchine automatiche, organiche, stupide, che reagiscono in maniera preordinata agli stimoli dell'ambiente, ma che non hanno alcuna capacità reale di risolvere i problemi. Ora, è ovvio che questa visione, nonostante sia la visione classica della scienza, per quanto mi riguarda, abbia una debolezza insostenibile. Io trovo, a prescindere da tutto, impossibile immaginare una vita stupida. Prima di addentrarci nel mondo delle piante, semplicemente vorrei ricordare, chiunque abbia davvero studiato la vita, cioè abbia davvero studiato come gli organismi si comportano negli ambienti reali, non può aver mancato di percepire la loro capacità di risolvere problemi. Ricordo di aver letto, tanti anni fa, un magnifico libro. Ricordo l'autore, era Jennings, era un microbiologo, il quale agli inizi dello scorso secolo scrive un libro sul paramecio, sull'ameba. Questo Jennings aveva studiato per tutta la vita il paramecio. Ora, il paramecio, lo dico per i più distratti, è un esserino minuscolo e unicellulare, cioè è una singola cellula, che però è dotata di ciglia e quindi riesce a muoversi. Il libro di Jennings sui paramecio è un capolavoro, perché è la summa di tutto quello che Jennings aveva imparato su questo paramecio in tutta la sua vita. E quello che è fondamentale è l'ultimo capitolo. Nell'ultimo capitolo dice Jennings, insomma io ho passato tutta la vita con gli occhi attaccati a un microscopio a guardare come si comportavano questi esseri unicellulari. E li ho visti spostarsi quando c'era del pericolo, li ho visti unirsi, dice proprio in gruppi, per cacciare, li ho visti difendersi dall'aggressione, li ho visti cercare nutrimento, li ho visti avere una vita sociale, li ho visti rispondere agli estremi di caldo, di freddo, di sale, di acidità dell'ambiente in cui vivevano. E ora mi chiedo, dopo aver passato una vita in questa osservazione, ma se questi esseri che noi riteniamo praticamente prossimi al nulla fossero stati grandi ognuno di loro come una balena, davvero avremmo pensato che non erano intelligenti? E Jennings ci dice, ci dà una prima informazione che io ritengo cruciale, le dimensioni. Noi ovviamente guardiamo al mondo esclusivamente dalla nostra prospettiva umana. Noi siamo la misura di tutte le cose e quindi tutto quello che, diciamo, è più vicino alla sezione aurea che siamo noi, ebbene, tutto quello che si allontana ovviamente ha meno delle nostre capacità, delle nostre straordinarie capacità. Il primo problema sono le dimensioni. Delle dimensioni così piccole non possono essere compatibili con l'intelligenza. Il secondo punto riguarda il movimento. Noi guardiamo alla vita dal nostro punto di vista e il nostro punto di vista è un punto di vista ovviamente, inevitabilmente, umano. Al massimo animale. Ma cosa significa animale? Perché noi ci chiamiamo animali? Come mai abbiamo questo nome? Perché questo nome ci qualifica. Animale vuol dire essere animato. Essere animato vuol dire essere in grado di muoversi. Il movimento ci dà addirittura il nome. Noi siamo animali perché ci muoviamo. E tutto quello che ci riguarda si esplica e si manifesta attraverso il movimento. Per noi è impossibile immaginare di risolvere un problema senza potersi muoversi. Il movimento per noi è fondamentale. Ora, io mi permetto di dire che molto spesso noi utilizziamo il movimento non per risolvere un problema, ma per evitarlo. Cioè noi ci spostiamo dal problema, il problema rimane. Nel caso di moltissimi organismi, l'86% della vita, per esempio le piante, questo non è possibile. Le piante non possono spostarsi dalla sorgente del problema, sono costrette a risolverlo. Vedremo che sono in grado di farlo in maniera incredibilmente efficiente. La misura, l'essere misura di tutte le cose ci rende ciechi alla possibilità che qualche cosa che è diverso da noi nella struttura, organizzazione, abbia le stesse nostre capacità o abbia delle capacità simili alle nostre. Dicevamo che uno dei problemi fondamentali per il riconoscimento dell'intelligenza delle piante è che le piante sono prive di cervello e come tali non possono essere annoverate fra gli esseri dotati di intelligenza. Ma è vero questo? È vero che le piante, non avendo il cervello, non sono in grado di risolvere problemi? Io penso che ovviamente questo non sia il caso. Sono talmente enormi le evidenze sperimentali di questo che quasi quasi non sarebbe il caso neanche di parlarne. Ma c'è un tema che è fondamentale invece da affrontare ed è il fatto del perché le piante siano prive di cervello. Questa è una questione fondamentale. O meglio, perché l'87% della vita è priva di cervello? Iniziamo da un'idea, di nuovo, che è un po' la stessa di quella di cui parlavamo prima. Noi siamo misura di tutte le cose. Noi siamo gli esseri che rappresentano un po' il meridiano zero, lo standard sul quale misurare la complessità di tutti gli altri. Come siamo fatti noi uomini? O meglio, come siamo fatti noi animali? Beh, in una maniera estremamente semplice. La nostra organizzazione è un'organizzazione piramidale, verticistica, con il cervello all'apice di questa organizzazione che governa degli organi specializzati in diverse funzioni, singoli o doppi. Un'organizzazione estremamente semplice. Un capo, e per questo si chiama capo, anche nelle organizzazioni umane, colui che governa, e degli organi che sono singoli o doppi. Quindi vediamo con due occhi, sentiamo con due orecchie, respiriamo con due polmoni, digeriamo con uno stomaco, ragioniamo con un cervello. Questa è la nostra organizzazione ed è il tipo di organizzazione che noi ricerchiamo quando guardiamo al resto della vita. È talmente fondamentale, importante, questo tipo di organizzazione per noi uomini che la abbiamo riprodotta praticamente in qualunque ambito del vivere umano. Qualunque cosa che noi produciamo è costruita come noi. Pensiamo, ad esempio, alle nostre organizzazioni sociali, alle nostre organizzazioni governative, alle nostre aziende. Un'organizzazione centralizzata come quella umana o animale è nata e si è evoluta ad un solo scopo, quella di poter garantire una risposta veloce alle modifiche dell'ambiente, perché noi siamo animali. Per noi la cosa più importante è il poter agire, il poter muoverci nel tempo minore possibile. La nostra organizzazione verticistica risponde essenzialmente a questa priorità, a questa caratteristica, a questa necessità, muoversi e muoversi in fretta. Al di fuori di questa caratteristica, la nostra organizzazione è un'organizzazione che fa acqua da tutte le parti. Un'organizzazione centralizzata, verticistica come la nostra, è inerentemente debole, fragile. Non c'è bisogno di rimuovere il capo per far crollare l'intera organizzazione. Basta che soltanto uno di questi organi singoli o doppi che sono fondamentali alla sopravvivenza dell'organizzazione si è rotto, si è danneggiato, perché l'intera organizzazione collassio, se vogliamo dirlo in termini più brutali, il nostro corpo muoia. Davvero pensiamo che noi siamo la migliore organizzazione possibile? se avessero chiesto a me come volevo essere costruito, ma io non mi sarei, credetemi, non mi sarei costruito come sono costruito ora. Io non voglio essere con un solo cuore, un solo fegato, un pancreas. Ma che organizzazione del cavolo è un'organizzazione dove ti si rompe il pancreas e muori? Beh, avessero chiesto a me, io avrei chiesto intanto, visto che sono una cosa così preziosa, otto, nove cuori, una decina di stomaci, pancreas, mettetemene una quindicina, e cinque, sei cervelli, eccetera. Cioè avrei utilizzato per la costruzione del mio corpo quel principio fondamentale che si utilizza sempre quando si costruisce una macchina che deve resistere, che è la ridondanza. Sono tante i problemi di un'organizzazione centralizzata e verticistica. Ora, immaginiamo se le piante fossero costruite così come siamo costruiti noi. la nostra organizzazione è frutto di una spinta fondamentale che è quella del movimento, muoverci nel minor tempo possibile. Ma una pianta non ha necessità di muoversi, non può muoversi, una pianta non può spostarsi, ha delle necessità che sono opposte rispetto agli animali. Cioè la necessità fondamentale di una pianta è come resistere alla predazione, proprio perché non ti puoi spostare, proprio perché rappresenti la fonte dell'energia chimica e il cibo del pianeta. Beh, devi essere in grado di resistere, il tuo corpo non può essere costruito come il nostro. Immaginiamo una sequoia, l'essere davvero più grande del pianeta, la creatura più grande del pianeta, non la balenottera azzurra, come normalmente si dice, la sequoia è dieci volte, quindici volte più grande in massa di una balenottera azzura. Immaginiamo questo albero di 90-100 metri d'altezza fuori dalla terra e 90-100 metri sotto terra. Se fosse costruito come noi, cioè se avesse un cervello, se avesse due occhi, se avesse due polmoni, arriva il primo, non c'è bisogno neanche di una capretta. Il primo bruco che mangia un pezzettino del cervello sarebbe sufficiente a far crollare un'organizzazione così straordinaria. E allora come hanno fatto le piante a risolvere questo problema? Beh, si sono evolute secondo un tipo di organizzazione che è l'opposta di quell'animale. Cioè, le piante hanno diffuso su tutto il corpo quelle funzioni, tutte quelle funzioni che gli animali hanno invece concentrato negli organi. In altre parole, una pianta vede con tutto il corpo, sente con tutto il corpo, respira con tutto il corpo, ragiona con tutto il corpo. non hanno organi specializzati singoli o doppi, ma hanno una estrema diffusione delle competenze, chiamiamola così. Una minore efficienza, perché però non hanno bisogno di rispondere così velocemente come noi animali, ma una capacità di resistenza talmente straordinaria che noi possiamo tranquillamente immaginare di rimuovere anche l'80% del corpo di una pianta e la pianta continua a sopravvivere. È talmente straordinaria la differenza che esiste fra piante e animali che la pianta addirittura non è un individuo. Noi animali siamo individui. Individui viene dal latino. In con l'accezione di non dividus divisibile. Noi non siamo divisibili. Io non posso essere tagliato in due, una capra non può essere tagliata in due, soltanto alcuni vermi hanno questa capacità. La quasi totalità degli animali sono individui, sono indivisibili. Le piante non lo sono affatto. Tu puoi tranquillamente tagliuzzare una pianta in tante parti e non la ucciderai, anzi molto spesso la propagerai. E quindi pensate quanto è diversa questa forma di vita rispetto vegetale, rispetto alla forma di vita animale. Però se noi non comprendiamo questa differenza, se noi continuiamo a guardare alle piante come se fossero degli animali con dei seri handicap, cioè degli animali che non vedono, che non si muovono, che non sentono, che non ragionano, ma non capiremo assolutamente mai la complessità, la straordinaria, affascinante complessità di questi esseri viventi. Quando guardiamo quindi alle piante, dobbiamo essere consapevoli che stiamo guardando a una organizzazione, a un modello di vita che è completamente diverso da quello animale e che non è comprensibile se non alla luce della ragione. Cioè non possiamo intuitivamente percepire come funzionano le piante, dobbiamo guardarle attraverso la lente della ragione che ci spiega come mai qualche cosa che ci sembra un ammasso inerte di verde è in realtà una forma di vita complessa e intelligente. Diceva Leonardo non vi è cognizione che non principia con il sentimento. Il sentimento non è ovviamente nella lingua di Leonardo non è il sentimento come lo immaginiamo noi, è proprio il sentire, il percepire. Cioè ci dice Leonardo che non vi può essere cognizione senza percezione della realtà, dell'ambiente. Allora la prima cosa che dovremmo chiederci è le piante hanno percezione della realtà hanno degli organi una capacità di senso e qui abbiamo la prima incredibile scoperta proprio nel senso di svelamento perché le piante contrariamente a quello che noi immaginiamo contrariamente a quello che la maggior parte delle lingue mondiali ci ha lasciato il fatto di dire che qualcuno è in stato vegetativo quando è completamente disconnesso dall'ambiente che lo circonda quando non è più in grado di percepire la realtà. Bene, le piante sono esattamente il contrario di questo. Le piante sono incredibilmente più sensibili rispetto agli animali nel percepire i cambiamenti dell'ambiente. E se ci pensiamo è anche banale il perché. Perché mentre noi animali non abbiamo necessità di avere questa straordinariamente sottile conoscenza dell'ambiente per sopravvivere noi non abbiamo bisogno di capire con grande anticipo che qualche cosa sta cambiando nell'ambiente intorno a noi quando cambia qualcosa ci spostiamo corriamo via una pianta non può farlo una pianta ha un'unica possibilità e questa possibilità è capire sentire con grande anticipo che qualche cosa sta cambiando nell'ambiente di modo che può modificare la propria fisiologia la propria anatomia cosa che le piante possono fare gli animali molto più raramente e difficilmente questa diciamo questo primo requisito della cognizione che Leonardo poneva è perfettamente soddisfatto l'altro fondamentale requisito della cognizione è che un essere intelligente è in grado di imparare cioè è in grado di risolvere in maniera sempre più efficiente fino a un certo punto c'è una curva di apprendimento che inizia all'inizio rende sempre più e poi a un certo punto raggiunge un plateau un problema ricorrente una pianta quindi è in grado di apprendere e questa è una questione fondamentale sì le piante apprendono quello che è interessante e fondamentale è che il prerequisito dell'apprendimento è la capacità di memorizzare non ci può essere apprendimento senza memoria qualche anno fa insieme a una mia ricercatrice che si chiama Monica Gagliano ci ponemmo proprio questo problema è possibile dimostrare che le piante sono in grado di apprendere quindi di memorizzare allora io mi ricordavo di un vecchio esperimento fatto dalla Mark quindi stiamo parlando veramente del Settecento e la Mark aveva chiesto a un suo allievo che poi divenne anche lui un famosissimo botanico si chiamava De Candol di prendere una piantina di mimosa pudica immagino che molti di voi la conoscono è quella piantina che quando la toccate chiude le foglie istantaneamente beh la Mark aveva chiesto a De Candol di prendere delle piantine di mimosa pudica di portarsele indietro di metterle su una carrozza e di fare un giro di Parigi allora Parigi era famosa per avere il pavè quindi queste strade in cui la carrozza sombalzava molto aveva detto proprio la Mark disse a De Candol fai fare questo giro e scrivimi ogni cinque minuti che cosa accade a queste piante ed è molto interessante io ricordavo di aver visto questo lavoro su un appassionato anche bibliofilo quindi quando mi capita un libro vecchio lo arraffo sempre ricordavo di aver letto questa descrizione di De Candol e lui diceva appunto che le piantine all'inizio avevano chiuso le foglie spaventate usa proprio questo termine dai dai sobbalzi ma che dopo un pochettino queste foglie si erano riaperte e non si erano più richiuse nonostante la carrozza continuasse a sobbalzare allora a me fin dall'inizio questo comportamento era sembrato un classico comportamento di apprendimento perché apprendimento perché la chiusura delle foglioline nella mimosa pudica è un richiede energia cioè la pianta normalmente fa questo si comporta in questa maniera chiudendo le foglie o per spaventare degli eventuali insetti che si avvicinano sulla pianta o comunque per rispondere a degli avvenimenti esterni che reputa pericolosi ora una specie intelligente a un certo punto deve essere in grado di discriminare fra ciò che è pericoloso e ciò che non lo è se continua a sprecare energia chiudendosi quando non ce n'è bisogno beh questo sarebbe una di quelle risposte automatiche da macchine stupide di cui parlavamo all'inizio della nostra chiacchierata in realtà la mimosa pudica si comporta proprio perfettamente da essere intelligente cioè che cosa fa? si chiude all'inizio poi vedendo che la questione non è pericolosa a un certo punto si riapre e non si chiude più noi replicammo con la Monica questo tipo di esperimento in una maniera più moderna cioè costruimmo una specie di aggeggino in cui facevamo cadere dei vassi di mimosa con la mimosa pudica dai 5 centimetri questa caduta faceva chiudere istantaneamente le foglie lo facevamo su 500 piante e ricordo Monica messa lì a fare questo lavoro pazientissimo di far cadere le piantine poi aspettare con un cronometro quanto tempo ci si mettevano a riaprire le foglie a farle ricadere e poi di nuovo riaprire e si accorse che come ci si aspettava da una specie intelligente dopo 4-5 volte che questa pianta cadeva non si chiudevano più le foglie perché? allora pensammo c'erano due possibilità uno è che la pianta fosse stanca proprio così si diceva proprio esausta nel senso non avesse più energia per chiudere le foglie è una possibilità però se la toccavi questa si chiudeva istantaneamente e quindi aveva capito che c'era uno stimolo che era la caduta che non era pericoloso e che quindi poteva ignorare e un altro che invece era il tocco che continuava ad essere pericoloso questa è stata la prima grande scoperta in questo senso che facemmo la seconda fu quanto tempo queste piante mantenevano la memoria perché era questa l'altra questione interessante quindi ci accorgemmo che se le piante che avevano appreso che la caduta da 5 centimetri non era pericolosa poi rimanendo in una sera per due mesi e poi essendo di nuovo fatte cadere da 5 centimetri continuavano a ricordare che quella caduta non era pericoloso ecco quindi le piante sono in grado di memorizzare e di apprendere sono in grado di comunicare beh questo è un mondo di un fascino e di una complessità che noi non immaginiamo così come noi utilizziamo suoni per comunicare le piante utilizzano molecole chimiche le piante sono le più grandi maestre della chimica che esistono producono centinaia di migliaia di molecole diverse e riescono a mescolarle a emetterle nell'atmosfera e a mandare con questo dei messaggi che riguardano ciò che sta intorno a loro messaggi di aiuto messaggi di avvertimento oggi sappiamo con certezza assoluta che le piante si scambiano informazioni sull'ambiente che le circonda non solo sono in grado di avvertire le piante vicine che qualche cosa di pericoloso sta accadendo per cui piante che sono anche distanti in natura dei chilometri da piante che stanno subendo qualche tipo di aggressione iniziano a prepararsi per tempo a quello stesso tipo di aggressione è una cosa straordinaria di cui non avevamo alcuna idea soltanto fino a pochi anni fa e allora a un certo punto qualche anno fa nel mio laboratorio iniziamo a chiederci come si fa a dimostrare in maniera assolutamente ineccepibile indiscutibile che le piante sono intelligenti negli studi sull'intelligenza degli animali un metodo classico per misurare la capacità quanto è intelligente un animale o se qualche cosa che stai facendo a quell'animale migliora o peggiora la sua intelligenza è fargli risolvere un labirinto il classico topo che si muove in un labirinto e trova l'uscito trova il formaggio o l'equivalente del formaggio è una classica dimostrazione di intelligenza cioè che cosa si fa si prende il topo il ratto lo si mette in questo labirinto dopodiché gli si fa qualche cosa per esempio gli si cambia la dieta e si guarda se la sua intelligenza migliore o peggiora rifacendogli fare lo stesso labirinto che cos'è che si misura con un animale il tempo cioè quanto tempo impiega l'animale a trovare il per esempio il topo a trovare il formaggio allora ci cominciamo a chiedere beh si può fare qualcosa del genere con le piante beh sì si può fare però chiaramente non sarebbe giusto prendere il tempo come parametro di intelligenza cioè le piante sono lente però immaginiamo di prendere un altro parametro non tanto il tempo che una pianta impiega a risolvere un labirinto ma quante volte sbaglia direzione intanto che labirinto può risolvere una pianta beh immaginiamo un labirinto proprio un labirinto in cui una radice debba cercare un nutriente un nutriente che piace alla pianta per esempio una fonte di azoto che è l'equivalente del formaggio per il to se mettiamo se facciamo risolvere costruimmo questi labirinti li facciamo risolvere alle radici e ci accorgemmo che le radici sono letteralmente geniali cioè non sbagliano mai una svolta ora come mai se facciamo questa questo identico esperimento con un animale diciamo che quell'animale è intelligente anzi che questa è una misura dell'intelligenza dell'animale e se lo facciamo con una radice no l'intelligenza è la capacità di percepire l'ambiente di trovare la soluzione esattamente la stessa cosa che fa la pianta allora le piante sono esseri intelligenti per quanto mi riguarda io credo che le piante siano più intelligenti degli uomini intelligenti nell'accezione più basica del termine cioè nella capacità di risolvere problemi e la dimostrazione di questo sta nel fatto che noi ci troviamo in un momento della nostra storia in cui rischiamo addirittura che la nostra specie ne abbia delle gravi conseguenze cioè ci stiamo in un certo senso autodistruggendo stiamo ridistruggendo l'ambiente dal quale dipende la nostra sopravvivenza cosa che nessuna pianta farebbe mai e soprattutto a tutti coloro che immaginano e hanno un'idea dell'uomo come migliore di tutte le specie io dico soltanto aspettiamo perché veramente che cos'è l'obiettivo che tutte le specie hanno in comune l'obiettivo la gara che noi condividiamo con le altre specie beh questa è la sopravvivenza della specie la sopravvivenza e la nostra specie è estremamente giovane noi abbiamo 300.000 anni Homo sapiens la vita media di una specie su questo pianeta è 5 milioni di anni la vita media il che vorrebbe dire che se noi fossimo come le altre specie avremmo ancora 4 milioni e 700 mila anni davanti che ad oggi sembra un orizzonte francamente difficile da raggiungere eppure se raggiungessimo i prossimi 4 milioni e 700 mila anni saremmo come le altre specie come? cioè avremmo dimostrato che il nostro cervello averlo o non averlo era uguale siamo come gli altri se vivremo oltre i prossimi 4 milioni e 700 mila anni avremmo dimostrato di essere meglio della media ma se faremo tanto di estinguerci nei prossimi 10.000 100.000 un milione di anni avremmo dimostrato di essere indiscutibilmente una delle specie più stupide mai apparse su questo pianeta lucy più stupide più stupide più stupide